Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono T93 e quest'oggi siamo qua per un video velocissimo per il regalo di San Valentino che ho fatto quest'anno alla mia amorosa. Un regalo da 12 euro, sì sono da 12 euro, perché gli ho già regalato il tamatone. E gli ho pagato di più. Boh, ma gli ho già di 40 euro il tamatone. Ma adesso, San Valentino non è una questione di prezzo, non è una questione di pensieri, infatti questo non è un pensiero che vale il suo prezzo, però vale più il pensiero. Non ho detto forse è giusto, ma capitemi, passatemi i termini. Infatti io ti ho regalato l'alcol. Abbiamo un rosa, mi ha regalato questo che è tutto il regalo che ci sono le birre. Ero con. Sì, mi ha fatto apposta. E hai fatto male. Che tirate fuori le birre e ci sono le frasi d'amore ogni volta che le bevete, così vi ho innamorato della birra. Ma questo è un altro discorso. Io l'ho fatto perché ti innamori di me, non della birra. Il primo regalo di oggi è questo. Questo. Non so se è venuto il trucco qua. Immaginiamo questo. Questo è tipo una colonina che si rompe. Dire te, sembra una cosa simpaticissima perché non per il fatto di cosa sembra, perché come potete vedere sia un pentaglio. All'interno ha qualcosa che sembra un cristallo che in realtà sembra plastica, credo sia proprio plastica. Proprio la voglia di fare questo regalo. Però il regalo è intrinseco al valore dell'oggetto, non è la qualità dell'oggetto perché sembra quasi plasticoso ma invece non lo so. Quello che c'è, neanche quello che c'è dentro, quello che c'è una volta rivelato la luce giusta. Ok Google, e fate accendi torcia, potrete scoprire il segreto di questo oggetto. Prendete questo, lo illuminate dal retro e come potete vedere ci sono dentro delle scritte. Le scritte proiettate sono ti amo in cento lingue del mondo. Anche l'italiano c'è da qualche parte. Con due cuoricini qua. Così potrete dire ti amo in tantissime lingue del mondo e la vostra metà porterà sempre con voi tutte quelle parole. E qua dovrà ricordarsi di voi e accendere alla torcia, nei momenti più boi. Bene, per oggi è veramente tutto, scusate il video veloce. Ho tantissimi oggetti, adesso ho cose da recensire e aspettatevi video a breve ma non troppo a breve. Cerco di fare un video a settimana anche di più ma i tempi stringono purtroppo. E niente, per oggi è tutto. Buon San Valentino. Buon San Valentino a tutti. Buon San Valentino. Grazie. Iscrivetevi al canale e alla prossima. T93. Ciao.